Ciao Badders, stavo registrando senza audio, mi sono accorto di essere un totale cretino come al solito, ma questo non è importante. Come sapete è da un paio di giorni che non sto pubblicando video, che non sto portando videogaming e oltretutto l'ultimo video che avete visto era un video ricaricato perché era un test ovviamente, ma quello... Vabbè, quella poi ve lo spiegherò che test era. Comunque, ragazzuoli, il canale del Buddy ha deciso, probabilmente c'è più che il canale del Buddy, il Buddy ha deciso di cambiare un attimo rotta su quello che stava facendo. Purtroppo, barra per fortuna, in realtà mi sono reso conto di essere anche abbastanza troppo vecchio per poter portare sempre gaming e contenuti nuovi e freschi e preferisco lasciarlo magari a un ragazzo più giovane che magari sicuramente merita di più di me con dei contenuti di Minecraft rispetto che un vecchio come baddone. Discorso Minecraft a parte, è proprio un cambiamento del canale di Buddy, quindi se volete sapere queste cose e se ci tenete un minimo al canale, ragazzi, guardate questo video completamente, tanto ve lo farò super corto, super veloce per farvi capire quello che voglio fare da qui ai prossimi mesi. Come vi stavo dicendo, Buddy ha deciso non di abbandonare completamente Minecraft e il gaming, ma di modificare quello che va a portare sul suo canale. Ovvero, capiamoci meglio ragazzuoli, voglio cambiare il modo di come porto i video, voglio portare più vlog, voglio portare più cose particolari. Se devo portare Minecraft, voglio portarlo in un modo diverso da tutti, in modo mai visto o comunque un modo fatto nel mio stile, quello che piace a me effettivamente. E quindi faremo questo big cambio da questa parte minecraftica barra gaming. Dalla parte vlog invece, ragazzi, vedrete delle cose geniali e fantastiche, probabilmente mi costeranno tantissimo tempo, ore di editing, ore di sonno in meno, ma non mi interessa perché so che sarà un contenuto che potrebbe piacere tantissimo a voi, piace tantissimo registrare a me e potrebbe piacere tantissimo al mondo. Ok, magari non il mondo, ok, Buddy, sì, potresti volare un po' più basso ogni tanto quando dici le cose, ma comunque, detto questo, ragazzuoli, probabilmente questo sarà l'ultimo video che vedrete dove vi parlo un po', diciamo, in questo modo motivazionale, tutto stupido e poi vedrete veramente i contenuti che inizieranno la settimana prossima, quindi da oggi, probabilmente, oggi non so se è giovedì o venerdì vi farò uscire questo video, vedrete dei contenuti, anzi non vedrete dei contenuti, cioè vedrete me che preparo dei contenuti, quindi se volete seguitemi su Instagram e capirete cosa andrò a fare, cosa voglio andare a fare e dove voglio arrivare. Detto questo, ragazzuoli, mi dispiace dovervi dire queste cose così, lo sapete tantissimo, però quando ho bisogno di dire qualcosa, io piuttosto preferisco condividerla con voi che fare tutto all'oscuro di quello che, insomma, è l'effettivo mondo di YouTube, perché alla fine io sono cresciuto insieme a voi, voi state crescendo insieme a me e se devo fare dei cambiamenti voglio che voi lo sappiate e magari mi scriviate un... scri... scrivete... scri... scri... devo andare a lezioni di italiano? Scrivate qua sotto qualcosa di commento oppure un'idea oppure un vostro pensiero o qualunque altra cosa. Ragazzuoli, video del baddone qui di oggi, lo so che vi lascerà un po' l'amaro in bocca perché probabilmente molti di voi volevano solo esclusivamente Minecraft, ma non mi sento più di portarlo. Comunque ragazzuoli, non pensate che questa sia una fine, Buddy non pubblica più video, Buddy non fa più queste cose, Buddy non porta più il gaming, Buddy non fa questo, Buddy non fa quell'altro. È semplicemente un riinizio, voglio ricominciare un attimo quello che ho fatto col mio canale, perché c'è stato un anno in cui ero veramente contento di fare quelle cose e un anno in cui ho detto, io non me la sento più di fare queste cose, io voglio comunicare altro, voglio portare diverse emozioni, voglio portare altre emozioni ai ragazzi che mi seguono. Spero appreziate comunque questo piccolo cambiamento, ragazzuoli, ovviamente tutti i commenti che ci saranno qua sotto cercherò di leggere, cercherò di rispondervi, se mi volete scrivere su Instagram, se mi volete scrivere su Telegram, se mi volete scrivere da qualunque parte, io, state tranquilli, che vi leggerò in questi due o tre giorni mentre andrò a preparare i video nuovi. E niente, ragazzuoli, non mi resta che darvi un salutone dal baddone e augurarvi una buona visione dei prossimi video che usciranno, ovviamente, e magari dei vecchi, ovviamente i vecchi non li cancello, li lascio lì, se volete vederli, ragazzuoli, sono sempre lì. Dal baddone è tutto, a tra poco.